Bella a tutti ragazzi, qui è JackSpider E oggi siamo qua su FIFA 14 Ultimate Team, la web app Visto che siamo in attesa di accessori per registrare dalla Play E oggi andremo a fare un pack opening Allora, partiamo bene, negozio Qua, Alaba, primo pacchetto, speriamo benissimo dai Andiamo a aprire, subito, tam Non guardo, 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 chi è? Rui Patricio Mamma mia, che bel giocatore Bene, proseguiamo E conserviamo tutto, poi dopo vado a posto Ah, questi qua ce li abbiamo già, li vendiamo Sì, ok Allora Riandiamo al negozio Riandiamo col, aspetta, prima usciamo Facciamo le tecniche, le varie tecniche Andiamo anche su lista trasferimenti Sto vendendo a Neymar Poi andiamo su negozio, ritorniamo Andiamo qua Vidal, me lo sento Questo è un buon pacchetto Me lo sento Me lo sento che è un buonissimo pacchetto Io non guardo sempre, non guardo, non guardo, non guardo, non guardo, non guardo Chi è? Chi è? No Chi è? Sto rari Ma dai, ma non si può Ma non si può Sto rari Mamma mia, che schifo Conserviamo tutto, poi da poco Ah, che brutta roba Ecco, è Sciarai Questo, me lo sento, è buonissimo Cioè, è il Sciarawi Beh, Cristiano Ronaldo lo troviamo Dai Io non guardo sempre Battiamo il mouse Chi è? Fletcher Fernando Kuzmanovic Basi Mamma mia Prosegui Ragazzi, finora non ho trovato nessuno Speriamo in meglio Tanto qua ci abbiamo un po' di crediti Ma non li faccio tutti Allora, no, questi non mi piacciono Quindi, usciamo da Andiamo su Inizio Andiamo su Negozio Messi Questo, se non si trova Messi Non si trova mai Infatti, d'altronde non lo troveremo mai Schipiamo Benteche 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 Allora, questo Lo conserviamo sicuro Come l'oro Perché mi serviva Benteche No Sì qua, ovviamente Serviamo tutto Poi si mette a posto Benteche Abbiamo trovato Il più forte finora Benteche Proviamo questo qua Con questo qua Cinese Non si sa da dove viene Non l'ho mai visto Saltiamo Quattromila crediti Grazie Perché questi qua fanno cagare Quindi quattromila crediti Mi ho regalato Eh, beh Vorrei anche vedere Trenta robe schifose Ah, questo ce l'ha biangiato E penso Eh, via Via tutto Allora Riandiamo sul negozio Cambiamo un po' Strategia Vabbè Questa qua Doppia italiana Dai, si prova Pam Via, si Ok Via Non guardo io Non guardo Non voglio guardare Non voglio guardare Salta Pum Murigno abbiamo trovato Murigno è questo Questo qua Che non so neanche Non l'ho mai sentito Abbiamo trovato Murigno ragazzi Murigno Dai Abbastanza buono Dai, Alaba Portaci fortuna Alaba Se non ci porti fortuna A te non ce la porta nessuno Schipiamo Eh, ma che brutta cosa Ma che brutta Ma che brutta Ma chi sono sti qua Messi, dai Messi Portaci bene Messi Schipiamo De Santis Lucio Gignac Tutti infortuni Mamma mia Brutta cosa Si sta trovando nessuno Ma ci abbiamo anche già questo Vedi Sì Via tutto Cento qua Centocinquanta Dai E ancora un pochino Di Poi di pacchetti Pum Via Non guardo io Come al solito Non voglio guardare Questo lo lasciamo andare tutto Olè No, no, guardo Chi è? Mmm Ah, questo qua Bisogna vedere Se è uno di quegli argentoni Belli 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 Magari Facciamo un po' di fortuna Adesso Questo qua Non serva tutto Torniamo al negozio Alaba Dai Alaba Dai Alaba Portaci Portaci fortuna Un bel cristiano ronaldo Un bel riberì Guarda io Ma dai Ma non si può trovare sti giocatori Ma non si può Ma non si può Ma non si può Però Stiamo buttando via crediti e basta Allora Un po' di tempo fa Come voi sapete C'era Il periodo dei totti Lì Anche io Lì Ho iniziato Non si trova nessuno Chi è sto qua? Ma dai Ma chi sono? Ma chi sono sti sciuri? Via Tutto nel club Uh Ci abbiamo mille Alleluia Così andiamo avanti Per fare soldi e basta Proviamo a prendere Un pacchetto Argento Dai Giusto per provarlo Sì Apriamolo Argento Pam Ce l'abbiamo trovato Mamma mia Anche con l'argento Si riesce a trovare qualcosa Ritorniamo Adesso andiamo Sempre con l'oro Un bel letto in forma Dai E le c'aravi Fammi trovare un bel letto in forma Un bel letto in forma Un bel letto in forma Questo è tuo in forma Sì Lui è tuo in forma Ciani qua bisogna togliere Ciani E si mette tuo in forma Oh signore mio Conserviamo tutto Sempre ritorniamo al negozio Mi a fare un'altra Facciamo un'altra Sì Pedalbi 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 E abate E poi andiamo a trovare 108 crediti ragazzi siamo giunti All'ultimo pacchetto E questo si fa proprio Una cosa ma di quelle Si fa sul mio club Andiamo sui giocatori Ci vieno tutti questi Benissimo belli belli Poi andiamo su staff Guardate tutti gli allenatori che abbiamo trovato Chi è questo qua? Caballero come la mia moto Quello lì si chiama come la mia moto caballero Mai visto Allora Aggiungiamo Nella rosa attiva Poi andiamo alla rosa attiva Abbiamo murini Benissimo questa è la mia rosa Intanto ve la faccio anche vedere Dopo magari più avanti porto una squad builder Adesso ho appena venduto Neymar ragazzi Perché ce l'avevo qua al posto di Torres Ma guardate non faceva neanche un gol Non so O il mio era difettoso Non so io Ce l'avevo lì ma ho fatto il gol all'inizio Boh basta Meno un attimo gasato Poi basta Andiamo sul negozio E' il sciaraui Stefano il sciaraui Allora Muoviamo un po' il mouse alla cavolo La cavolo Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua negli angoli Tocchiamo tutti gli angoli possibili e immaginabili E pam Pam Questo non si schippa Cristiano Ronaldo Giulio Cesar Ma dimmi Ma non si può Ma non si può trovarsi Giulio Cesar Tutti i portieri Questo qua mi hai visto Ragazzi Giulio Cesar La divisa E queste qua Non serviamo tutto No ci abbiamo un altro di questi Benissimo Allora Ragazzi il video è finito Terminato qua Perché siamo in 101 Devo tenermeli Perché tra un po' Ci sarà l'estrazione del contest Dei 50 iscritti Che siamo contentissimi Adesso sono già 60 Qua c'è la mia La mia rosa Che Adesso la cambierò un attimo Dove mettere un attimo a posto Con qualche giocatore Che comprerò qua Penso che metterò O Aguero O Vampersi Lasciatemi in descrizione La prossima Che squad builder Volete Di che squadra Ibrida Come la volete Me lo fate sapere Che io poi la farò Mi raccomando Iscrivetevi Lasciate un like Commentate con la squadra Che volete E Bella a tutti